Ricomincia ancora, aveva smesso un minuto, due minuti aveva smesso, adesso ricomincia di più Nella macchina si pede un po' di più perché non è una moto quindi ci si pede un po' di più Tutto allagato, tutto allagato No, mi si pagna una mattina e mi si pagna, poi lascia a piedi Via lampi, 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 lampi Ora comincia a piovere però di meno Poco sta piovendo, sta piovendo moltissimo C'è un'aria calda, dietro al senamolo Ci sono già secco di benzina, ci sono già secco Le vato un litro e mezzo vato, ci sono già secco Lui è sempre la buona in corso, sempre la buona in corso Ora piove di meno Quando arriva un lampo piove di più, mi vado a passare, no sono stronzo Stronzo, ammazza Ok, ora l'arco è arrivato, arriverà il buono, dopo il buono, più verrà il buono di più Stronzo, ammazza Stronzo, ammazza Stronzo, ammazza Stronzo, ammazza Stronzo, ammazza Stronzo, ammazza Stronzo, amminista Stronzo, amministra Lì e stia che rampi ci sono E domani, tutto il giorno pioggia domani Lì non avviene la luce In viatoriani non c'è luce Giriamo a sinistra, giriamo a sinistra Troppi dossi, c'erano dossi, buche, dossi, buche Qui stranamente non c'erano lavori in corso Mentre vi dicevo su un lavoro in corso Il pulmo mi fa passare il pulmone? Si Grazie Costantino Ok, lavoro in corso, ho parlato un po' però adesso ho parlato Nella mia preantia c'erano il lavoro in corso Adesso poi rifermo l'ambulanza di ferma Adesso io non ho fatto quel strato, ho sbagliato però beh, stessa cosa Sì Giriamo un po' a destra Ma sembrerebbe che sia smettendo Sembrerebbe che sia smettendo Poi, come dicono, la settimana posta All'arriva l'alta pressione Spero anche sia così Ambulanza Vabbè Giriamo lo stesso Non c'erano le lampi che ci sono devo andare a camminare stasera ma non posso perché piove uscire la mia macchina non ci sono vedi rossi 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 il rossi rossi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, ci sono marciapiede, forse proprio non ci passano le macchine. Ok. Arrivo subito. Ricominciamo il nostro viaggio. Sempre che lampeggia, sempre che duona, ma sembrerebbe che sia quasi smesso di piovere. E' più ancora però, però di molto, molto, molto di meno. Passate. Grazie a tutti. Sto ancora pioendo, sta pioendo ancora, però ho molto, molto di meno rispetto a prima. Andiamo a casa a mangiare. Qui le luci non esistono. Sono andata via le luci. La mia corrente è andata via. No, non c'è la corrente. Lì non c'è la corrente, qua c'è. Le quattro frecce non si mettono a mongoloide. Le frecce si mettono. Qui le luci non ce ne sono. Ancora via la luce. Non trovi possibile. Dall'opposto, qui c'era la luce. E se le luci non ci sono. Sono l'11% di batteria. Sta ricominciando ancora. Fortunatamente c'è la macchina. Mi è arrivato ancora, gli ho riscosso nei moto aero. Molto, molto di controllo doveva. E quell'altro è arrivato sempre bagnato a casa. Guarda per la macchina, tutta l'altra cosa. Gli anni passano, gli anni si crescono. Ora portiamo di comprare la macchina nuova. Di fare la patente, perché altro. In giro senza patente non è andato bello. Compriamoci la macchina nuova, la patente, prendiamoci. Questo è l'incoglione in senso unico. In contromano. Io se incontro l'amano se non ancora hai capito. La gente è ignorante, la gente è ignorante proprio. Vabbè, noi abbiamo concluso il nostro viaggio. Siamo arrivati a desinazione. E ci sentiamo più tardi con le previsioni del tempo. E' tutto buio di così. Mi tornerà in tutto buio. Ora sono le 8.36. Giovedì 29 settembre 2022. E ci saranno circa 13-14 gradi. Non so di precisione. Però più o meno sì. Dai passi. Sono passata e muoviti. E dormi. Dormi. E muoviti però. Figa 30 anni ci metti. Svegliati. Non dormire. Minchia. Impressionante la gente. Cicco il traffico. Non c'è proprio l'immigine che vuoi girare. Dai sorpassalo. Dai svegliati. Sorpassalo. Figa la gente dorme la sera. Dorme. Non dovete dormire. Devevi sbrigarvi. Porca vita che ho fame. Mi mangio che voi mi mangio. Mi diciamo la macchia e me la mangio. A me che ho fame. A dopo. Ciao a tutti.